Stamattina presso la sede dell'Anfas Ragusa conferenza stampa per discutere dei disagi che derivano dai tagli al trasporto pubblico per i disabili. Sono arrabbiati e delusi i genitori dei ragazzi disabili della provincia che da oggi non potranno più fruire del servizio garantito dal libero consorzio di Ragusa. Da oggi infatti circa 180 ragazzi non sono potuti andare a scuola. Alla base i tagli dei trasferimenti regionali che ha determinato per il libero consorzio ebleo il dissesto finanziario. Tagli che però ancora una volta colpiscono un settore fondamentale come quello dei servizi ai disabili. I problemi dei nostri figli con disabilità sono problemi che interessano tutti perché il discorso è sempre uno, un ragazzo con disabilità inserito in una scuola che ha i giusti sostegni, che è incluso, è una ricchezza e la scuola, il livello di qualità della scuola sarà un livello di qualità molto alto. Io dico che una sensibilizzazione da parte di tutta la comunità va a portare dei benefici ad ampio raggio.